In questi mesi, con la fine del lockdown, sono aumentati gli infortuni e le malattie professionali, anche in Molise. Nicolás Leone. Salgono le denunce di infortuni e di malattie professionali rispetto al periodo del lockdown e più in generale della fase acuta della pandemia. È la tendenza, forse prevedibile, che emerge a livello nazionale dai dati INAIL relativi ai primi nove mesi del 2021. Alcune regioni fanno eccezione, ma il Molise non è tra queste. Nel periodo gennaio-settembre 2021 in Molise sono stati denunciati 1.233 infortuni. Nello stesso periodo del 2020 erano stati 1.029. Sono 204 denunce in più. L'aumento percentuale sfiora il 20%. In Molise crescono anche le denunce di infortuni con asito mortale. Dalle 11 dei primi tre trimestri 2020 si è passati alle 16 dello stesso periodo 2021. Cinque denunce in più comportano un aumento del 45%. Il discorso non cambia se si passa a esaminare il capitolo delle malattie professionali. In Molise nei primi nove mesi del 2020 ne erano state riportate 97. Nel periodo gennaio-settembre 2021 si è saliti a 151. Le 54 denunce in più equivalgono a una crescita percentuale che va oltre quota 55. Di drammatica recrudescenza parla, commentando le tendenze nazionali, il presidente INAIL Franco Bettoni. Secondo il quale va innanzitutto migliorata e resa efficace la valutazione dei rischi in modo che le azioni di prevenzione siano idonee e specifiche così da rispettare le ragioni di tutela della sicurezza e della dignità umana.